La bellezza dell'equilibrio. Sono sempre all'interno dell'Alambra, qui a Granada, e mi trovo a cospetto di tantissima bellezza. Nello stesso tempo, in questa parte del palazzo, quello che mi è venuto in mente è un grandissimo equilibrio. Infatti sto cercando di muovermi perché tu possa cogliere questo senso dell'equilibrio. Ebbene, l'equilibrio è rimasto in questo palazzo, all'interno, nonostante tutte le vicissitudini, tutti i conquistatori che sono arrivati qui a Granada e che hanno preso il potere. Insomma, ci sono state tante, tanti eventi che hanno sconvolto completamente la storia di questa città. Nel contempo, questo luogo è rimasto un luogo di grande equilibrio. È rimasto un luogo di grande equilibrio perché l'equilibrio è al suo interno. Guarda questa zona, se non ti trasmette equilibrio. Questo, che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che noi possiamo vivere in equilibrio sentendoci in pace, nonostante tutto quello che accade intorno a noi. Nonostante tutto quello che viviamo, nonostante tutti gli eventi. Questo, ovviamente, se noi rimaniamo in contatto con noi stessi, con la nostra parte più intima, con quella parte saggia che ci fa sentire calma in tutte le situazioni. E questo è molto semplice. Quando noi siamo in Divine State, quando noi sperimentiamo la Divine Connection, perché questo ci permette di entrare in contatto con quello spazio di verità in cui noi siamo totalmente in pace. Bene, ti saluto e ti aspetto al DC Live di Rimini il 30 novembre e il primo dicembre. Un abbraccio di luce da Patrizia. Ciao!